Ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e stiamo tornati su Final Fantasy XV Siamo esattamente nel punto in cui ci siamo salutati l'ultima volta Infatti siamo in compagnia di Noctis e Promoto E ci stiamo dirigendo verso la prossima missione Per continuare la storia Che il treno su cui viaggiavamo Si è fermato bruscamente dopo il nostro tra virgolette incontro con Ardyn E dobbiamo capire se questa è una macchinazione del lì E' vero? Forza Troia E non dipende dai passaggiari lo so però non manca anche lì Lucro su questo, il ci fermo. è bastata una proiezione istantanea per ragazzi dopo tanto tempo ritorniamo vediamo che caspita possiamo uscire possiamo fare no con i vetri rotti noi non possiamo uscire va bene ci sta cosa sei eh babano destruggiamoli guardate il scelto dai chi altro è rimasto a livello 31 dei soldati vai ah ma si autodistruggeva eh ditemelo quanti caspiteri non ne arrivano vai quello spadone non mi tolgono niente per questi qua non mi ricordo a che livello sono io però mi ricordo che gli faccio tantissimo danno questo è il rischio per round 2 nooo ah no m***a o no mi hanno messo in un ante pensavo stesse frepando ma quanto ti tolgo m***a bella l'arma di prom no 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 non c'è chi è pronta per il round 2? non c'è chi è pronta per il round 2? devo difenderlo per fare anche perchè poi si riuscola più ma se solo ci può finire merda hanno mandato tutti i grossi ora il terreno è minacciato dai carri armati avvicinati progettandoti e distruggi prima che bombardi oh mio oh mio ah bastava far cosiii porco piano perfetto allora si saliti splendettinamente eh il treno è sottotiro dalle aeronauti proiettati e infiltrati all'interno per fermare l'interno l'aeronauti dove sono? oh fai ah fai come faccio ad entrare qui? com'è come manchato ogni consueto cambri blue si valve no ma Oh! 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 She's gonna blow! Yeah! 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 She's gonna blow! That was it! Yeah! 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 Perfetto! Yeah! 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 Tornati il 3, no? Uh! Fatto! Arvin! Allora è davvero che c'eri! Prompt! Oh cazzo! Merda! No! Quindi Arvin ce l'ha trasformato in prompt! Porca troia! Quelli veri dove sono? Quindi siamo un po' fuori! C'è... Meno male! No! 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 Non lo sappiamo dove è, ma non possiamo farlo! Resti tranqui, Nocte. Io sono più preoccupi per Prompto come sei. Ma stoppare il treno potrebbe farlo a tutti. Ci saranno i ducchi per i demoni. Che faremo? Prima, lo facciamo i passaggiatori a Tenebrae. Ci saranno brevemente. Cosa di Prompto? Dicevano il tranzo dell'involvimento, probabilmente non è più lì. Ci saranno in un momento in cui ci saranno i due. In ogni caso, ci saranno contattati. Lasciamo aspettare e speriamo per ora. E ti saranno qui, Gladio e te lo so con me. Ci sono i due, almeno? Sì. Ok, andiamo a via. Poi, as soon as che prendo i due... Oh merda! Certo c'è sti tunnel eh? Ma che cazzo? Ma che cazzo? E mo? C'è un po'... Due? Merda! Tre! E' quello! Minchia rora! E' un po' di poche... Ma quello è legia, tanto? Ma quando non hai buscato legia, tanto? Ma non l'ho chiamato. Ma quando non hai buscato legia, tanto? E' troppo tardi per piangere. Eccoci qua. Ci stiamo ricongenti almeno a loro due. Ma io non ho ancora capito se sta gnocca è buona o cattiva. Ma... Non ho aspettato a ascoltare questo. Cosa hai fatto con gli occhi? Oh, ehm... Just a flash wound. Can you see? I'm... Ah, questo parla dell'anello. Ok. Non lo so. Wow, questo succede. E' un mondo cruel. E' tutta la colpa dei tuoi amici dell'impero. Oh, non c'era uno ancora di voi? Sì... C'era. Ehm... Abbiamo perduto la presa di loro. E' morto? Non lo so. E' morto? E' morto, continui a morto. E inoltre... Ando, what's at hand. So, perché no, chi unisce a noi... Potrei risparmiarti la vita. Oh, thanks the demons. Palms of the Imperial Army. The army that you fight for. Fought for. My men and I are in the search and rescue business now. Mmm? Che si alimenta con una leon. Che si alimenta con una leon. Che si alimenta con una leon. We have a favor to ask. Ask away. In light of what you've told us. We... Can't allow the other passengers to continue on. Sure. Leave them to me. But... Who's gonna drive the train? Now that you mention it, yeah. You know anyone? I do. In fact, I know too. Yeah. You, you engineers. Biggs and Wedge. No need to worry. They can take a lickin'. Only if we have to. What's all this about? Driving a train. To Gralia. That all. Well... Who would you have me ask? You got us there. We'll do it. Hey. Really appreciate you going out of your way. Yeah. No sweat. Parla con Beans. And... Hey. Thanks for the lift. We're happy to help. Can't see the climate will be as cooperative though. You know? Right. Especially the Gorge. The place is freezing. Makes sense what were the ice goddesses called corpse line run. It's a rather long ride. So I suggest you bundle up before we ship out. All the way. I bumped into a woman from the manor. Used to serve house florae. Must have gone off looking for you. Said she had something important to discuss. With me? I guess I'll find it then. Allora... Qualcuno ci deve parlare eh? We'll be waiting on board. Give us a hollow when you write the shovel. Ma potremmo fare solo missioni principali, ragazzi. Vabbè almeno siamo ricco... Abbiamo Gladio e Ignis al nostro fianco per ora. Che è sta vecchia? My word. Is that you Prince Noctus? Uh... yeah. Have we... Oh, blessed be the stars. Just look at what a fine young man you've grown into. A quanto pare ci conosco. I am Maria. A retainer in service to house florae. I doubt you'll remember me after these long years. I, um... Can't say I do. Don't worry. Who I am is if little import. In light of what I wish to discuss. Lady Lunafreya risked everything to spirit the ring of the Lucia away from the Citadel. Did she deliver it to you? Yeah. Stars above. My fears have been assuaged. Lord Ravis too will be overjoyed to hear this news. Ravis too? What the fuck is this Ravis now? Ah, the brother! Bello! I beg of you. Please. See the ringed Noctus. On my behalf. I beg of... love. Already... My flesh has begun to fail me. No, non posso accettarlo Con la tua mano Deve essere fatto Per deliverare il ring e inspirare il re è tua chiamata Tu non devi fallare Quindi è dei buoni sto stronzo Mi piace la fortuna di andare Find it, Lunafreya You have the will Go to Noctis Show him the truth of your heart Perché ha visto il film e sa che cosa gli è successo a quel braccio I understand you will go hence to the imperial capital Yeah Lord Ravus has King Regis's glaive in his safekeeping And it was his wish to return it to you my prince Though I imagine it will not be easy for you to find each other I'll get it from him somehow I pray it shall be so Perfetto Ok, ora possiamo partire Grazie dell'informazione Maria Oh, come cazzo di Terina ti chiamo Qua c'è un oggetto Che alla mia vista acutissima non Non posso assimilare? Oh, non lo posso assimilare, non so perché Però vabbè Andiamo parecchio amanti spediti, raga Perché tanto qua non è che abbiamo tanto da fare Dobbiamo riavere la spada di papà Una ci ha preso l'anello Luna aveva la custodia dell'anello E il fratello ha preso in custodia la spada del padre Vabbè Ma quando ci ha incontrato non poteva già darcela Quando ci ha incontrato l'altra volta Quando ci siamo Prince Noctis E voi Prince Noctis, tu eras emocionata di margare la Lady Luna Freya? Perché lei era davvero emocionata di margare tu Ella sembrava così felice dal giorno che sua dressa arrivò Ella davvero amava tu, Prince Noctis I... Thank you Mothka Bimba At first, the father had mourned the fate of his chosen son Yet in Tenebrae, the two found solace It was not the Oracle who assuagged their fears Ma la ragazza, la ragazza, la vera potenza. Ho poco a dare a un king, other than the voice afforded the oracle. Ma comunque... E... I'm afraid you might find this foolish. But... to be together with Noctis again... Even if only for a short while... It... Would mean the world to me. I do not seek to guide him. Merely... To stand beside him. Porca cicca! E intanto si è fatto giorno, ah no. That's not true, is it? No, not at all. No, ma luna è morta qui in... Cioè, almeno. Com'è che ci fanno vedere tutte queste cose di luna adesso? Corriamo. Capi treno. Siamo pronti. Ready to depart? Just swapped out the damaged cars for some new ones. Give one of us a hollow when you're ready to shove off then. Dining car's open, if you need a break. Shall we shove off then? Vai, partiamo. We'll wait. Shall we shove off then? Climb aboard. è quasi 2000 punti di differenza e quindi lei è buona è nostra amica c'è un'altra divinità degli elementi citiamo solo noi tre che cavolo annuncia la radio finché non arrivare a questa destinazione poi approfittare del tempo libero per esplorare i vagogni del treno sai chi ci telefona? con chi eri al telefono Nox? missione compiuta per un espresso ma poi ci stiamo fermando per quel motivo non lo so e vediamo è morto è morto è morto non c'è tempo per esplorare credo che non lo so che cosa è morto è morto che cosa è morto è morto è morto ma non c'è tempo no ancora tu? Ardyn non può essere lui ancora Eccola è lui, è lì, ce l'abbiamo andando avanti Ci sta venendo pure incontro Come with my hair No A coldness that can only be hers Ah, la face you wore the day Cosa sarebbe Shiva Che gnotto Un altro, ma è un tridente ancora? Sister, cease this madness That boy will never be king Noctis is chosen It is ordained You of all people should know I know that you are Throwing your life away That may be But It's my choice If only If only I could Hear his voice once more If we could laugh together as we Did his children Oh, abbiamo ottenuto La benedizione della glaciale Però mi sa che abbiamo ottenuto anche qualcos'altro Perché ha smesso di registrare qua di punta in bianco Fatemi vedere Il tridente della sciamana? Uh Allora non lo avevamo ancora Damn Wake up Porca puttana no Sta piangendo? E porca troia Molto bene ragazzi direi che per oggi possa essere tutto La prossima volta ripartiremo da qui Io come sempre vi invito a lasciare un bel like A commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto E alla prossima Ciao belli